Comincia con un successo in trasferta il 2023 della San Cataldese che nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie D espugna il difficile campo del Sant'Agata con un gol di Zerbo all'ottantaduesimo. Una vittoria maturata nei minuti finali della partita. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, la squadra Verde Amaranto ha saputo trovare con determinazione la via della vittoria. Tre punti che consentono alla squadra allenata da Pietro Infantino di compiere un notevole balzo in avanti nella classifica del Girone I, lasciandosi alle spalle la zona più calda, quella dei play-out. I risultati della diciottesima giornata. Nel campionato di eccellenza la Nissa supera 4-2 il Casteldaccia al Tomaselli. Biancoscudati in vantaggio con Sacco all'inizio del primo tempo. L'1-0 a freddo taglia le gambe agli ospiti che capitolano per la seconda volta al dodicesimo. Rete siglata da Dibbiase su calcio di rigore. Al ventunesimo il Tris biancoscudato messo a segno da Esposito. Al quarantaduesimo il poker nisseno è servito con Lusero. Sul 4-0 nella ripresa il Casteldaccia corcia le distanze con Monti all'undicesimo. Al ventiquattresimo altro acuto dei palermitani con Minnone. I risultati della sedicesima giornata. Cus Palermo Castellammare 1-0, Don Carlo Profavara 1-2, Enna Mazzarese 2-1, Leonfortese Acragas 0-3, Resuttana Parmonval 5-0, Sciacca Gela 1-0, Mazzara Oratorio Marineo 0-0, Nissa Casteldaccia 4-2. La classifica Acragas 39 punti, Enna 38, Profavara 34, Don Carlo 32, Mazzara 29, Sciacca e Mazzarese 27, Nissa 22, Casteldaccia 20, Castellammare 17, Leonfortese 16, Oratorio Marineo 15, Resuttana e Cus Palermo 11, Gela 9, Parmonval 5.